C'è tutto un discorso, no? Perché la canzone che viene dopo è una canzone forte e bisogna farla con persone forti, no? Che hanno ancora rinta nelle gambe e fiato nei polmoni. E io a questo punto mi è venuto in mente di invitare un grande personaggio. È lui. È Ernesto degli Amici del Re. Eccolo qui, ce l'abbiamo qui stasera. Porco il cane che è ragazza stasera. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Ernesto. E che canzone canti tu? Un rock. Ah, tu canti un rock. E chi è che suona questa canzone? Tutti. Tutti loro? Ah, li vuoi proprio tutti stasera? Leo no. Ah, Leo no. E perché? È troppo vecchio. Ah, Leo è troppo vecchio? Porco cane, Leo. Allora suoniamo senza batteria stasera. Senza batteria fai il rock. Come fai a farlo? Con Antonio. Ah, c'hai Antonio? E dove è Antonio? Chiavolo. Antonio. Ah, eccolo qua, va. Ah, porco cane. C'è il batterista suo personale stasera. Ciao Antonio. Ti senti in forma Antonio? Allora vai alla tua postazione, va. Ce li facciamo provare? Sì. Vediamo poi cosa combinano. Proviamo, va. Tier 2, 3 o'clock. 4 o'clock rob. 15, 10 o'clock, Kate's, clock rock. 19, 11 o'clock, 12 o'clock rock. Come on, rock around the world tonight 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 Vieni qua, vieni qua Antonio Queste, qui sono le nostre mascotte Antonio ci segue sempre perché è un po' più grandino di Ernesto Ernesto piano piano ci seguirà anche lui E per il momento ci teniamo questo grande batterista Che sarà veramente un grande